buongiorno ragazzi movie maker per voi con una nuova live trailer action questa volta si parla di film di animazione della sony animation studios gli autori di spiderman to the spider verse e questa volta è connected super connessi in italiano che uscirà tra qualche mese questo è il primo trailer sempre col brevetto di sony siete pronti ragazzi 3 2 1 super connessi un attimo di attenzione un tempo che era la mia bambina giocavamo insieme facevamo gita nei boschi devo ritrovare quella connessione non sei sistemare qualunque cosa è la nostra ultima serata insieme prima che che ti parta per il college ti va di mettere giù il telefono e guardarci negli occhi grandissimo stile grande sony se si fanno delle escursioni spettacolari preparatevi stiamo per presentarvi la più grande invenzione della storia si usa la sua musica l'ultimo arrivato nella famiglia dei lavoratori pari vi garantiamo che non diventeranno mai e poi malvati prego restate calmi mentre vi catturiamo l'ultimo parola a favore mamma che sono quelli sono due umani che spalla creatura è questa cane maiale maiale cane maiale in cassetta la tecnologia si sta ribellando i robot pattugnano le strade non c'è tempo di lavarsi le mani tranquillo non lo faccio mai è la nostra forza prendete appunti ragazzi e potremmo essere così sviluppati da volerlo sembrava impossibile creare qualcosa di animazione nuovo la sony ce l'ha fatto con questo suo brevetto super connesso fantastico fantastico ragazzi veramente bellissimo il trailer è divertentissimo sony sembra che si avesse bene dietro con l'animazione ricordiamoci che anni fa faceva film come piavano polpette che non erano comunque già brutti e ora siamo arrivati con questo super connessi che per la famiglia mi sembra il film perfetto veramente fantastico divertentissimo questo trailer è bellissimo consiglio di guardarlo spero che questa live direction vi sia piaciuta ce ne sarà un'altra oggi sempre di una serie tv di apple tv sì quindi guardatela se è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella e seguitemi su instagram che mettono notizie del cinema e non solo alla prossima ragazzi ciao